Si chiama solidarietà alimentare ed è una delle manifestazioni che stanno prendendo piedi in questi giorni così difficili. È un modo per aiutare quanti non possono permettersi per i più disparati motivi di comprare del cibo. Ci sono i carrelli solidali lasciati nei supermercati pieni di spesa e chi non può è invitato a servirsi. E i volontari che portano a casa le buste comprate per famiglie in difficoltà. Molti invece scelgono di allargire donazioni a carita su ad altre realtà. Per incentivare e promuovere tutto questo il decreto Cura Italia prevede per la durata dell'emergenza che i donatori possano beneficiare di incentivi fiscali. Le persone fisiche potranno detrarre per un importo non superiore ai 30.000 euro fino al 30% mentre per quanti sono titolari di reddito d'impresa la somma donata sarà deducibile dall'ira. Altro chiarimento in materia fiscale che arriva dall'Agenzia delle Entrate è quello relativo al bonus da 100 euro. Potranno usufruirne tutti i dipendenti pubblici e privati con un reddito inferiore ai 40.000 euro. La circolare spiega che le aziende riconosceranno il premio già nella busta paga di aprile a tutti i lavoratori che per esigenze di produzione o impossibilità di smart working continuano a lavorare in sede.